l'ora solare tra poco con grande gioia vi presento padre Walter Vinci ben arrivato, grazie di essere con noi lo vedete, religioso camigliano lo dico lo vedete perché avete questo abito bellissimo dallo scorso settembre responsabile della pastorale giovanile del centro Italia vice formatore alla casa di formazione ma non voglio dire soprattutto insomma padre Walter durante tutta l'emergenza covid è stato in prima linea come cappellano dell'ospedale San Giovanni a Roma e qui dovrei dire due punti vada padre Walter perché grazie innanzitutto grazie per l'invito per essere qui e per tutto il suo immenso lavoro cosa vuol dire essere cappellano in un ospedale in tempo di covid? io sono trovato nella prima ondata del covid presso l'ospedale che fra virgolette possiamo dire per fortuna non era un ospedale covid quindi giungevano da tutti gli altri ospedali gli ammalati possiamo dire senza il covid e io ero soprattutto cappellano al pronto soccorso dove arrivava un po' sia malati di covid che non e si accoglievano tutti cosa le chiedevano padre? cosa le chiedevano le persone? beh soprattutto la vicinanza perché come ben sappiamo negli ospedali è vietato l'ingresso dei parenti certo e quindi si trovavano ad affrontare questa nuova avventura in maniera solitaria in solitudine e gli unici ad avere come punti di riferimento erano gli operatori sanitari e noi cappellani li stiamo vedendo abbiamo anche visto una torta con candelina ma insomma sì era il mio compleanno il suo compleanno è caduto è caduto in ospedale qui è proprio al pronto soccorso in ospedale San Giovanni sì allora il suo ordine padre Walter l'ordine dei Camigliani come stabilisce la sua costituzione si dedica prima di qualsiasi cosa sto leggendo un virgolettato alla pratica delle opere di misericordia verso gli infermi e fa sì che l'uomo sia messo al centro dell'attenzione del mondo della salute la sofferenza padre Walter che una persona incontra e noi oggi stiamo parlando in tempi di un covid che sta lì non se n'è andato io e lei siamo a tanta distanza anche per questo motivo quanto è importante avere persone come i Camigliani avere questi sacerdoti avere chi tenda la mano e dica posso non toccarti ma il tuo cuore al tuo cuore arrivo al tuo cuore do una carezza sì il nostro carisma il quarto voto che facciamo è quella dell'assistenza degli ammalati con il pericolo della vita quindi siamo sempre in prima linea davanti a tutte le difficoltà a me piace dire così come è giusto che parlare di sofferenza a 360 gradi non parliamo solo di una sofferenza fisica ma parliamo anche di una sofferenza spirituale di una sofferenza morale di una sofferenza sociale quindi abbracciamo a 360 gradi tutti coloro che si avvicinano a noi e che chiedono non solo un aiuto materiale ma soprattutto un aiuto spirituale ma soprattutto una vicinanza per questo parlavo di una carezza che arriva quindi queste carezze si esprimono proprio in questa vicinanza notte e giorno perché fare il cappellano o essere religioso o camigliano significa che siamo disponibili sempre qualsiasi ora e in un ospedale in un pronto soccorso dove dove non ci sono buone notizie dove comunque se si arriva pronto soccorso in un ospedale è successo qualcosa quello che è successo nella sua vita padre Walter io ho chiesto a padre Walter la sua età e lui mi ha detto 35 io ho detto no sono 22 e abbiamo trattato su questo in realtà lui non dice mai bugie sono 35 però ne dimostra ancora di meno quello che è successo padre Walter nella sua vita per arrivare fin qui ha attraversato anche un grande dolore un dolore della perdita di un amico carissimo di una persona cara quindi è l'istante in cui non sai non sai che cosa fare non sai che cosa pensare da dove è partito? sì io la mia storia vocazionale ho conosciuto San Camillo sin da bambino perché nel mio paese di origine sono presenti da ben 120 anni qual è il paese di origine? mesagne mesagne le suore e figlie di San Camillo quindi fondate proprio dalla fondatrice io ho conosciuto sì da bambino questo carisma questo grande gigante della carità però le varie vicissitudini della vita mi hanno portato ad intraprendere un cammino in seminario prima minore e poi nel seminario regionale di Molfetta come sacerdote diocesano ma quindi l'elemento della sofferenza mi ha accompagnato un po' per tutta la vita il travaglio non solo fisico ma anche interiore fino a giungere a interrompere aiutato dai miei formatori gli studi e proprio in questo spazio in questo tempo ho conosciuto Raffaele questo uomo di appena 40 anni del mio paese che è malato da un tumore proprio nel lui mi chiedeva proprio una vicinanza non preferiva la moglie non preferiva i suoi figli che erano ormai piccoli ma mi chiedeva una vicinanza per abbracciare la sua sofferenza ma soprattutto una sofferenza spirituale e lì ho messo in gioco anche la mia vita e la mia scelta vocazionale che bella cosa che sta dicendo padre Walter sì perché la sofferenza ci accomuna quindi la sofferenza di Raffaele e le varie sofferenze che mi portavo dentro sofferenza familiare sofferenza spirituale umana per le tante fragilità che mi accompagnano quindi ho detto forse il Signore mi chiama proprio qui ad dedicare tutta la mia vita ad abbracciare a consolare le sofferenze e proprio il libro l'alfabeto del cielo nasce proprio possiamo dire come un travaglio della mia della mia storia perché sono sempre convinto che in ognuno di noi c'è una notte ah sì assolutamente molti molti considerano la notte della sofferenza come l'ultimo l'ultima stagione della vita invece no sono convinto che la notte bisogna attraversarla per giungere al giorno sembra tanto lunga padre Walter quanto bisogno c'è di voi perché a volte la notte sembra superare i limiti orari che dovrebbe avere però come dico sia gli ammalati ma coloro che incontro solo durante la notte noi possiamo vedere la bellezza delle stelle eh sì madre Walter solo durante la notte questo questo è vero e poi si vede quel filo di luce dell'alba che ci dice che durante il giorno non riusciamo a vedere le stelle solo durante la notte lei è diventato camigliano sì perché ha capito e ritorniamo anche su questo alfabeto però ecco la sua notte le ha indicato con l'alfabeto delle stelle che questa questa fosse la strada sì doveva era la sua vediamo ecco qua il giorno in cui è stato ordinato sacerdote questa era la sua strada sì la strada della sofferenza di una sofferenza davvero totale che mi porto e mi portavo dentro sembra il filo conduttore della mia vita perché come dicevo mi hanno sempre accompagnato delle sofferenze fisiche ma delle sofferenze interiori e quindi mi convincevo sempre di più che la via della sofferenza era l'unica via maestra per diventare santo perché penso che la santità deve attraversare l'umanità di una persona e la mia umanità è attraversata dalla sofferenza e quella sofferenza che voglio donare agli altri e quella perché la mia sofferenza può essere motivo di santità anche per gli altri lei usa correttamente parla di di santità per quella e ciò a cui dobbiamo tendere a cui dovremmo tendere tutti i giorni no? cioè ogni giorno fare della nostra vita qualcosa di speciale non buttare via le ore non buttare via il tempo che abbiamo noi abbiamo visto la sua ordinazione 21 settembre 2019 a Mesagne papà mamma sul suo papà ovviamente per il suo papà un abbraccio che arriva in quell'altrove oggi e anche quella è una grande sofferenza ovviamente ma suo papà la sua mamma i suoi fratelli la sua comunità ecco eccoli qua la vediamo con i suoi genitori ecco che cosa che cosa hanno detto quando hanno visto questa il compimento di questa prima parte dell'opera poi l'opera la si fa tutti i giorni beh neanche loro hanno ben capito no? il disegno di Dio che era sulla mia vita perché ero in seminario ho lasciato mi sono fermato per due anni poi ho ripreso con una nuova direzione quella della vita di San Camillo loro non sono la mia famiglia non è una famiglia praticante cattolica sì ma non praticante però mi hanno sempre accompagnato mi hanno accompagnato nelle scelte che liberamente ho voluto prendere e lei è un bravo figlio per un bravo figlio bisogna essere pronti a sostenere anche le scelte che a volte non si capiscono direttamente no? sì molte scelte i genitori a volte non le comprendono però questi sono i suoi fratelli sì mio fratello e le mie due sorelle anche loro non sono praticanti però mi accompagnano sempre sono sempre con me e mi accompagnano in questa avventura lasciandomi libero ma soprattutto facendomi vivere e volare nel grande mondo nella grande società così travagliata per oggi lei 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 scrive questo libro il suo ultimo libro è il presepe ci teniamo a dirlo ricordo ancora tau editrice bisogna sempre ricordare gli editori sempre lei scrive questo libro per insegnare a ciascuno di noi a guardare in modo diverso la notte che stiamo attraversando sì a riconoscere le stelle durante la nostra notte proprio per questo e se non le vediamo padre Walter che dobbiamo fare beh quando un cielo è stellato difficilmente non si riescono a vedere però c'è da dire che durante l'ora della sofferenza sia interiore che fisica non si riescono a vedere però forse è lì che servono persone i sacerdoti come voi lì bisogna chiedere aiuto esatto lì bisogna chiedere aiuto anche nella mia vita tanto travagliata soprattutto interiormente anche io ho avuto una stella ed è un sacerdote che mi ha accompagnato e mi accompagna tuttora perché a volte bisogna saper riconoscere nelle tante stelle quella stella polare che è Cristo ma quella stella polare si serve e altre stelle che ci possano guidare che ci possano soprattutto indicare la direzione per giungere a Cristo guardate un po' noi siamo l'ora solare e abbiamo parlato di stelle e di notte finora ma ne valeva assolutamente la pena io auguro a padre Walter Vinci semplicemente di continuare così è sempre meglio è sempre di più perché dietro il suo sorriso dietro il suo conoscere il dolore c'è la certezza di aiutare noi a uscire dal nostro e spero di riuscire perché quella è la mia missione le possiamo dire una cosa secondo noi perché io guardo anche tutto il resto dello studio ci sta già riuscendo benissimo grazie ma non ho detto io l'abbiamo detto tutti quanti insieme grazie di essere stato con noi grazie ancora grazie a tutti